Siamo qua a Lambra nel quartiere storico della Garbatella a Roma e siamo qua con il regista di una commedia altrettanto straordinaria. Siamo con Daniele Falleri e io passo il microfono subito a Daniele per chiedere qua a Lambra e soprattutto qua a Lambra per Il marito di mio figlio. Che mi dici di questo titolo e di questa sitcom, no? Come si può definire? È una commedia brillante. Dicci. Il marito di mio figlio, sì. Il marito di mio figlio è una commedia brillante, come ti dicevo. È una commedia che sta per andare in scena alle mie spalle, forse intravedete qualcosa della scenografia, quindi è un'anteprima. È una commedia che non è ancora nata per certi versi, ma ha già avuto un grande successo, nel senso che è stata pubblicata in libreria, è stata tradotta in inglese, in francese e in americano, perché è stata fatta a Washington dall'Istituto di Cultura Italiano a Washington. A febbraio debutta a Londra, in inglese, e la prossima stagione anche a Parigi. Per cui, diciamo, essendone l'autore sono molto contento. Sono molto contento anche della regia perché ho un cast strepitoso con Eva Grimaldi, Andrea Roncato, Ludovico Fremont, Pietro De Silva, Pia Englebert, Roberta Garzia e Andrea Standardi. Per cui sette personaggi, sette attori fantastici, tutti comici, tutti anche però con un forte sentimento. La scelta su loro è stata, diciamo, oltre che all'aderenza al personaggio, al fatto che sono sette attori diversi, molto diversi l'uno dall'altro, anche come personalità, non solo come fisico. Per cui è veramente stato come dirigere un'orchestra, con tanti strumenti, tutti diversi, però viene fuori un'armonia esilarante dal nostro punto di vista. Adesso a momenti lo dirà anche il pubblico se è così. Il pubblico sicuramente si divertirà, ma poi già da come tu hai raccontato, questa idea di coralità, di divertimento, e probabilmente sono anche molto fra di loro affiatati questo cast. È un cast che nasce adesso con questa commedia, ma è un cast che si è così trovato subito in affiatamento? Ma è un cast che molti di loro hanno già lavorato insieme, per cui, per motivo o per l'altro, si conoscevano. Io ho lavorato quasi con tutti, già loro, per cui diciamo che c'era già un affiatamento anche da parte mia, ma è stata costituita una squadra che immediatamente è partita, come dire, con generosità. Il testo, diciamo, da questo punto di vista un po' aiuta, perché sono sette personaggi che hanno tutti e sette un'evoluzione, una storia, un momento forte di protagonismo, ognuno dei sette, per cui, essendo corale, non c'è l'attore che deve fare la spalla alla storia di qualcun altro, che dice cinque battute, che però poi non hanno, come dire, un senso al di fuori della storia dell'altro personaggio. Invece no, tutti hanno una forte personalità, anche i personaggi, e loro la interpretano benissimo. Io sono molto divertito a farla, è stato anche faticoso per certi versi, come tutti gli spettacoli, e come poi io sono molto meticoloso, per cui in certi momenti li ho anche un po' stressati, diciamolo. Però adesso con, diciamo, col pubblico alle porte c'è solo l'allegria e la voglia di confrontarsi veramente con gli spettatori. Ultime due cose. Se ci puoi dare un'anticipazione di questa trama esilarante, ci faremo due risate, ma un minimo, così, un assaggino. Certo. Guarda, la trama è molto semplice, nel senso che ci sono due ragazzi di oggi, semplicissimi, sui 20-25 anni, maschi, tutti e due, che hanno deciso di sposarsi. Partono, devono partire per Madrid, perché in Italia ancora non sono riconosciuti i matrimoni gay, e invece di fare quello che avevano preventivato, cioè andare a sposarsi e dirlo dopo ai genitori, la sera prima uno dei due ha uno scrupolo, dice ma cosa abbiamo da nascondere? Diciamoglielo prima e poi andiamo. Quindi inizia la storia con loro due che hanno convocato le rispettive coppie di genitori per rivelare la grande cosa, non solo che sono omosessuali, ma anche che si stanno per sposare. Le reazioni saranno esplosive e succederà tutto quello che succederà. Diciamo che la particolarità è che il protagonista non è il matrimonio gay, il protagonista è l'amore dei due ragazzi e il punto di vista è quello anche dei genitori, infatti è il marito di mio figlio che già presuppone che chi sta parlando è qualcuno che sta fuori dalla coppia dei due ragazzi che si sposano. Per cui quello che mi interessava era proprio questo, i quattro genitori incarnano quattro pregiudizi forti nei confronti della diversità in generale e ognuno dei quattro sarà confrontato con questa notizia deflagrante e troverà una nuova visione del mondo per cui tutti alla fine cambiano. Io rappresento le persone attaccate ai vecchi principi, a questi che si scandalizzano quando uno dice che è gay, che si scandalizzano a fondo, che non hanno neanche troppo simpatia per le persone diverse, da quelle di colore ad altre persone. Quindi un po' come sono molti, molti più di quanto non si creda, perché tutti fanno i libri quelli, io per l'amore di Dio, per me sono tutti uguali, poi se la figlia li porta a casa un'altra ragazza e dice alla mia fidanzata o viceversa, non è poi così. Poi dicono ma perché? Soltanto perché non posso avere dei nipotini, non è vero, sono tutte bugie. Quindi io faccio uno classico, di questi un po' anche buzzurrone, che ha fatto i soldi, ma avendo una fabbrica, una conceria di pelli, che all'inizio prende malissimo questa cosa, addirittura spera, ti potevi fare prete, piuttosto che qualsiasi... e poi alla fine però verranno fuori in questa famiglia delle cose abbastanza che faranno capire che io era l'amante della mamma dell'altro ragazzo, un altro papà era gay lui, e alla fine l'amore più pulito sarà quello dei due ragazzi, questo si renderà conto di... Eccomi! Io pagherò anche lei perché cerchi di fare ritornare sulla retta via, secondo il mio modo di pensare, mio figlio. Non è che mi paghi soltanto, perché questo signore qui dietro le quinte dello spettacolo come personaggio ne combina di tutti i colori, perché ha una vita segreta, fatta di night, di locali, di avventure notturne. Oh, è il personaggio, non sono io, in realtà sono una persona a casa. Posso fare una domanda io? Ma siamo sicuri? Posso fare? Non mi voglio sostituire. Dei punti di contatto tra il personaggio che lei, signor Roncato, interpreta in questa commedia e la sua vita, lei come uomo, cosa ha in comune? Niente, assolutamente niente. Prima perché se mio figlio fosse gay non avrei niente da dire, anche perché non ho figli, quindi non corro questo rischio. Secondo perché io scherzo molto, tu conosci, sei di Bologna, quindi gioco molto sul sesso, su queste cose, ma in realtà siamo molto più, adesso ti spiego una cosa, molto meno concreto. Con concreto. Niente arrosto vuole dire. E mentre invece il papà dell'altro ragazzo è veramente gay. Lo immaginavo, lo immaginavo. Io sono probabilmente innamorato perché ha un corpaccione massiccio, che da stringere è un'esperienza. Lui quando sta con me gli sembra di essere in montagna. Sì, sì, a cortina. Sì, infatti, si veste tutto, è pronto. Lui è il personaggio, secondo me, della commedia più comico, fa molto ridere. E perché è un bravo attore, e perché la parte glielo consente, e perché è un personaggio. Lui fa ridere anche nella vita, cioè come lo vedo, rido. Allora, durante gli approcci sentimentali, fra me e questo attore massiccio. Mi basta, no. Abbiamo fatto 2500 repliche, eppure ogni volta mi fa sentire male. No, mi rido, rido, non è più forte che me. È una sofferenza. Scusa, ridi, ma ti emozioni perché sono questa cosa? Mi emoziono perché lo amo realmente. Però io sono anche sposato. Con una moglie, una signora molto di classe. Una bravissima attrice, che è Pia Engelbert. Io continuo a fare la... Pia Engelbert. Un'attrice brava, una... Simpatica. Sì, anche una brava persona, strana. Magari seria, è arrivata un attimo un po' seria. Per essere un'attrice, anche una brava persona. Anche una brava persona. Scusami, ma in questa commedia, una parte, no, un pochino, abbiamo ascoltato qualche cosa dal padre, che finge di essere in realtà questo duomo serio, tutto d'un pezzo, anche abbastanza retrogrado. Rozzo, sì, sì, però diciamo per quello l'ho scelto, per la rosezza. No, per i soldi, ma scelto per i soldi, altro che la rosezza. E lei è molto brava, io devo dire, io qua nel gruppo sono forse il più famoso, ma loro sono molto più bravi di me. E sono famoso perché ho scelto dei compagni bravi, quindi faccio la figura, faccio bella figura, capisci? E loro sono molto bravi. Ah, mio figlio, ecco sì. Eccolo, chiamiamolo. Se avessi un figlio, lo vorrei come lui. Quindi questo è uno dei due giovani protagonisti, perché so che abbiamo una coppia gay, questo me lo ho capito, di due giovani bei ragazzi. Quindi, aspetta, no capisco. Capisci io che devo rimanere così, che delusione. Me lo presenti tu, Andrea? Beh, lui si chiama Andrea, intanto gli abbiamo messo il nome del padre. Eh sì, Andrea Junior. Sì, standardi. Ma sì, in realtà è un onore per me recitare con queste vecchie canaglie da palcoscenico. Vecchio sarai tu. Potevi dire... Anziati. Potevi dire anziati. Non ho detto dire anziati, però ho lanciato a questo. Sì, sì. No, di esperienza. Sì, sì. Una vecchia pantecana. Una vecchia pantecana da palcoscenico. Poi sono altri figli, finiremo con... Ah, c'è l'altro figlio. Dov'è lo Ludovico? Ludovico, c'è. Ludovico, non c'è? Hai già perso il fidanzato, non credo. Si sta dilettando con delle donne, questo mi preoccupa. Sei bene? Eccolo, eccolo. Adesso, adesso... Che tutti voi conosciete. No, perché mi dicono cose tremende, Ludovico voglio dire fidanzato, ma mi parlano anche di donne. Non va questa cosa. Com'è? Sono confuso. Forse è un altro spettacolo. Mi sto preparando. Lui ha avuto un sacco di fidanzati prima. Io mi sono documentata sulla sua vita personale, per mettere in luce anche il suo aspetto eterosessuale, per dire che quindi ha rovinato mio figlio. Lui ha avuto, prima di fare questa scelta definitiva, è stato un etero pieno di fidanzate. Poi ha capito che in realtà era un tentativo per nascondere la sua vera natura. Questo sempre nella commedia. Io ne so qualcosa. Io delle sue ex fidanzate ne so qualcosa. Perché nella vita io lo conosco bene, è tutt'altro, diciamo. Io sono la sua ex fidanzata. Capisci che me lo devo ritrovare così? Che devo dire non è neanche una gran bella ex fidanzata. Esatto. Però hai anche un gran bel fidanzato. Nel caso mi andassi male con lui posso sempre tornare da lei, e viceversa poi a quel punto... Ma come ti permetti? Ma allora io vado copia, vado. Lui torna dalla mamma, torna dalla mamma che gli abbiamo fatto la cameretta nuova, è vero? Ma grazie. Con i peluche. Tutte le conce, tutte le pelli di maiale. Con le pelli di maiale. Con mezzo lingua. Che è meglio. Io non mi esprimo, no, 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 no. Non mi esprimo. La cosa più importante è questa. Dal 10 al 29 novembre al teatro alla Garbatella a Roma. E poi dopo ci sarà anche una mega tournée. Quindi per tutti quelli che non possono venire a Roma, vi raggiungiamo noi. Ecco, non tranquilli. Sì, anche dal 31 di 29 ce n'è uno che è l'Ambra Garbatella. Fino al 29. Ciao. Seguiteci sul marito di mio figlio di Daniele Falleri su Facebook. Ah, sì. Il marito di mio figlio di Daniele Falleri su Facebook. A noi ci tocca chiudere, ci hanno detto. Hanno detto che ci tocca chiudere. Ma che cosa abbiamo chiudere? Eh, diciamo, tutto il set di interviste, le conclusioni di questo spettacolo. È importante dire che io sono con Eva Grimaldi. Sono molto contenta, grande attrice. In questo spettacolo Eva farà? Amalia, sono un genitore, una mamma molto pop, molto rock, una mamma che va a trovare il suo figlio e viene sorpresa dal fatto che dice che il suo figlio si sposa. E come tutte le mamme, anche se sono pop, rock, metallare, come si sia, cercano sempre comunque di prendersi il proprio figlio e farlo sposare con una donna. Perché quello è un po' l'istinto anche. È una sorta di protezione, che non è un'omofobia, è un'altra cosa. Quella è l'amore che ha per il figlio e lo vuole aiutare in quel modo. E poi si rassegnerà anche la mamma. E in che modo? Beh, la mamma nasconde anche un segreto. Non ho sentito, hai già parlato con gli altri. Abbiamo fatto una chiacchierata, più che una chiacchierata è stata veramente un altro spettacolo. Perché con Andrea che ha chiamato gli altri. Ragazzi, io sono troppo agitata, non riesco veramente a parlare. Perché per me stare dietro il sipario, aspettare il momento che si apra questo sipario. vorrei cambiare lavoro, vorrei fare il lavoro dell'operatore, vorrei fare il lavoro a casa che sta vedendo adesso il servizio della serie. Chi me l'ha fatto fare? Cioè, proprio una paura, sono piena di sante, di madonna, segni di croce. Cioè, proprio tanta paura. Poi, una volta che si apre il sipario, divento a maglia un battibaleno, insomma. Il mestiere dell'attore è questo, no? È il batticuore dietro, però per quando entri, credo che ti esca questa... Sì, 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 il teatro è meraviglioso, le fraffalline che hanno lo stomaco non si possono contare. Poi è un bellissimo ruolo, il tuo è una bellissima commedia, abbiamo capito che è divertentissima, e quindi grazie ad Eva Grimaldi. Grazie a voi. Dicono merda, merda, merda. Merda, merda, merda. Per me, lo dico sinceramente, è un onore, vero, poter intervistare Alessandro Chiti, un grande scenografo, un Oscar, ricordiamolo, per la scenografia 2015, e quindi sono cose importanti, riconoscimenti che credo siano il doveroso riconoscimento di una vita dedicata alla scenografia, in questo caso, in questa commedia, come ti sei ispirato? Beh, essendo una commedia comica, farzesca, molto, molto divertente, anche un po' sulle righe, anche la scenografia segue questo tipo di andamento. e quindi è una scenografia molto apparente, si gioca su due ambienti, che sono un bar e la casa dei due ragazzi, e con un gioco di luci e di cambiamenti di scena, insomma, si arriva ad avere questi due tipi di ambienti diversi, con una sorpresa poi al finale. Che siamo curiosissimi, ovviamente, di vedere. Quanto conta la scenografia in una commedia, in teatro, piuttosto che al cinema? Quanto conta, quanto lavoro c'è, quanta fatica c'è dietro una scenografia? Beh, in teatro conta tantissimo, secondo me, cioè, come dire, alla base di uno spettacolo, cioè, ci sta la scenografia, come ci sono gli attori, c'è anche la scena. Direi che in questo periodo di crisi si tende sempre a ridurre le scenografie, e quindi a teatro si vede sempre di più fondali neri, quinte nere, però poi soprattutto in una commedia è fondamentale, insomma, descrivere un ambiente, anche se poi viene descritto in modo magari non completamente realistico, però aiuta, se non altro, a creare l'atmosfera giusta. Facevi notare il discorso economico, la fatica, che ovviamente investe, la crisi investe per prima, però per il mondo dell'arte. Questa crisi sulla scenografia è pesante? Eh, sì, molto pesante, perché poi dietro una scenografia c'è tanto, ci sono i facchini, ci sono i camion, ci sono i macchinisti, il direttore di scena, e quindi la gestione di una scenografia è una cosa importante, anche dal punto di vista economico, insomma. L'attore arriva e offre se stesso con la propria voce e la propria interpretazione. Dietro a una scenografia c'è un grandissimo lavoro. E si vede, e lo vedremo sicuramente in questo caso, tra l'altro una scenografia coloratissima, bellissima, e ancora tanti, tanti complimenti a un grande, grande scenografo. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi. A questo punto vogliamo sapere quando il pubblico può venire a divertirsi all'Ambra con la tua commedia. Dal? Allora, noi saremo all'Ambra alla Garpatella, qui, dal 10 al 29 di novembre, poi andremo a fare un giro in Italia, in varie città, saremo a febbraio a Milano, al Teatro San Babila. E vorrei dire un'altra cosa, un'aggiunta. Tutto questo è stato possibile grazie ad un giovane produttore che ha creduto molto nel progetto, che si chiama Christian Di Narto. È un produttore che è un ragazzo, a vederlo, ha 37-38 anni, che già che veniva aveva già delle esperienze alle spalle, non è che si cimenta per la prima volta. Però questa volta è stata la prima per una commedia di questo genere, uno spettacolo anche così importante, perché sette attori da gestire non è semplice anche dal punto di vista produttivo. E questo produttore ci ha sempre sostenuto e grazie a lui siamo qua. Abbiamo con noi Christian Di Nardo, produttore giovane, come abbiamo detto. Perché coraggioso, Christian? Perché? Innanzitutto perché giovane. Giovane si vede. Anche la scelta della prima nazionale in questa data non è un caso, visto che a mezzanotte compio 35 anni, quindi al momento ne ho ancora 34. Possiamo ancora utilizzare la definizione giovane. È ancora giovane, ma per poco. Quindi sicuramente produttore giovane e produttore coraggioso, beh, non è difficile da immaginarne i motivi, insomma. È un momento sicuramente delicato a livello economico. Infatti devo dire che ci siamo stupiti proprio perché, non per la giovanità, ma perché oggi trovare un produttore che abbia voglia di investire su un progetto innovativo, su una cosa nuova, insomma non è così facile. Quindi complimenti, però dici qualcosa in più di questa tua avventura. Ma, innanzitutto, io direi che l'aspetto caratteriale che ha spinto un po' questa decisione con Daniele Eranomesi, che ce l'avevamo un po' in tasca questa cosa, diciamo, proprio nasce dal volere andare proprio controcorrente in questo momento così difficile. Il coraggio sicuramente è la componente fondamentale, la fortuna è l'altra componente fondamentale e poi la qualità. Quindi c'è una grande voglia di esprimere qualità, produrre qualità. Devo dire grande cast, grande regia, grande quanto meno storia, quello che abbiamo evinto, grande produttore, grazie. Lo ringraziamo noi, a nome del pubblico, chi oggi si impegna per produrre qualcosa di nuovo, qualcosa in cui si può credere. Grazie a voi. Grazie a tutti. E per il show.